Nel cuore di Crispiano, la biblioteca Carlo Natale rappresenta il connubio perfetto tra il passato e futuro, trasformandosi in un punto di riferimento culturale per la comunità. Questo luogo di incontro e scoperta funge da ponte tra le generazioni. Con il supporto dell'amministrazione comunale e l'attiva partecipazione delle scuole e delle associazioni del terzo settore, la biblioteca è stata oggetto di un restyling significativo. Gli spazi sono stati ripensati con allestimenti moderni che riflettono un impegno verso l'avanguardia e la valorizzazione del patrimonio librario e storico. I nuovi spazi di Via Bari ospitano la Bibliofficina, un laboratorio avanzato di idee e creatività che favorisce lo sviluppo di progetti innovativi che potranno contribuire all'arricchimento della vita sociale e culturale. La Bibliofficina offre un ampio spettro di laboratori, spaziando dal digital storytelling al videomaking, dalla grafica editoriale alla digitalizzazione di libri e video. Questo impegno ha permesso la creazione di un archivio digitale ricco e facilmente accessibile, dove il patrimonio storico e culturale di Crispiano è ora disponibile online. Gli utenti possono esplorare collezioni di libri, documenti e video restaurati, partecipando attivamente alla vita culturale della comunità da qualsiasi parte del mondo. Un'importante novità è rappresentata dal lavoro di video storytelling realizzato per valorizzare le masserie e i percorsi storici e naturalistici. Questi racconti visivi offrono una nuova prospettiva sulle bellezze naturali e storiche del territorio. Abbiamo introdotto strumenti interattivi pensati appositamente per i giovani. Tra questi spicca una versione moderna del gioco dell'Oca, che si combina armoniosamente con un videogame interattivo. Questo gioco guida i bambini alla scoperta del patrimonio culturale e naturale in un modo che sia educativo che coinvolgente. È un'esperienza che trasforma l'apprendimento in un'avventura divertente, arricchendo la conoscenza dei giovani visitatori. Sono state anche realizzate video interviste che raccontano la memoria di Crispiano, offrendo preziose testimonianze dirette che arricchiscono l'archivio digitale e avvicinano le nuove generazioni alla storia del territorio. Il progetto ha dato vita a un'importante iniziativa di integrazione e scambio culturale che ha coinvolto gli studenti di Crispiano e quelli del Mali. Attraverso collegamenti in streaming abbiamo tessuto una rete di dialogo e condivisione, culminando nella creazione di un fumetto educativo. Quest'ultimo racconta la storia di un giovane migrante che, partito dal Mali, ha trovato una nuova casa e una comunità accogliente in Puglia. È una narrazione che non solo educa, ma apre anche una finestra sulle esperienze di chi attraversa confini e culture per costruire ponti di comprensione. Invitiamo la comunità e i visitatori a scoprire le novità della Biblioteca Carlo Natale con la sua riapertura. Venite a esplorare il nostro spazio rinnovato, dove il passato storico si fonde con le visioni digitali del futuro, in un ambiente che celebra e rende accessibile il nostro ricco patrimonio. La Biblioteca Carlo Natale è pronta a costruire un futuro luminoso, dove la conoscenza è a portata di tutti. Una grande emozione è riaprire le porte della Community Library Carlo Natale, una biblioteca di comunità che coniuga tradizione e innovazione, con tanti spazi per i più giovani, tanta tecnologia, ma anche il profumo sano dei libri, dei libri storici e delle memorie di questo territorio che sono tutti qui intorno. Anche l'Infopoint turistico è uno spazio per i bambini, oltre che una book experience dove insegniamo e facciamo vedere da dove nasce la carta. Veniteci a trovare alla nuova Community Library di Cristiano. L'Inaugurazione di una biblioteca è una festa per una città. Per Crispiano lo è perché aggiunge in questo modo alle bellissime masserie, ai cammini, aggiunge la cultura che viene dai libri e che viene da una biblioteca sempre aperta, che unisce al libro cartaceo le nuove tecnologie, in maniera che i ragazzi si sentano attratti a starci per mille motivi. Ecco, tenere una biblioteca, fare dei laboratori, significa dare ai ragazzi la possibilità di crescere con valori veramente importanti, quei valori che sono tipici della cultura, cioè di chi rispetta gli altri, di chi rispetta anche il silenzio degli altri mentre studia, ma vuole aggregarsi, vuole stare insieme. La biblioteca è uno spazio comune, la biblioteca è un grande bene comune. Purtroppo spesso da noi le biblioteche, quelle poche che c'erano, erano aperte soltanto di mattina, quando c'erano i funzionari del comune che le aprivano, ma non erano frequentate molto dai ragazzi, perché ovviamente i ragazzi di mattina vanno a scuola. Non erano frequentati da chi lavora, perché la mattina appunto lavora. Allora servivano biblioteche sempre aperte, tenute in considerazione da tutti i cittadini, anziani, giovani, ragazzi, studenti, e luoghi dove poter studiare e fare anche dei laboratori, dove potersi incontrare, magari venire a leggere i giornali in una sala relax, venire a prendere un tè o un caffè. La biblioteca è uno spazio sempre aperto necessariamente. Abbiamo voluto attraverso le biblioteche di comunità fare quello che succedeva a Bologna, nella sala borsa, così considerare anche i cittadini pugliesi, i cittadini italiani a pieno titolo, perché se non si hanno gli stessi diritti, se non si hanno gli stessi servizi, non ci si sente veramente cittadino italiano. E questo abbiamo voluto fare per i cittadini pugliesi. Siamo partiti da 20 milioni, ma poi i progetti erano stupendi, per cui ne abbiamo finanziate 130, aggiungendo altri 110 milioni. E oggi non facciamo altro che inaugurarle, e ogni comune dove si inaugura una biblioteca cambia. quel comune diventa un luogo di attrazione, sia per i cittadini della propria città, sia anche per quelli circostanti. E poi ci sono gli infopoint spesso nelle nostre biblioteche, il che significa dare ai turisti quelle informazioni compiute sulla città, che a volte neppure noi conosciamo delle nostre città. Un infopoint turistico all'interno di una biblioteca è segno di apertura, di accoglienza, ma la biblioteca è anche molto di più. Ecco, è veramente uno spazio di vita migliore per il futuro.